Fratelli d'Italia è l'unico partito che esce da questa tornata elettorale vincitore perché siamo cresciuti in maniera costante in tutte le regioni, abbiamo vinto le Marche e abbiamo eletto tantissimi sindaci senza neanche dover arrivare al ballottaggio. E mentre questo succede, dall'altra parte il Partito Democratico fa finta di festeggiare una vittoria che non esiste perché il Partito Democratico ha perso 17 seggi e il Movimento 5 Stelle non è riuscito a raggiungere neanche il 10% di media in moltissimi territori e Renzi non è sostanzialmente pervenuto a questa tornata elettorale. Il che vuol dire che questo governo è assolutamente non legittimato dal popolo, il popolo vuole il centrodestra al governo.